chi è cinzia dal pino l'imprenditrice di viareggio che ha investito cinzia dal pino l'imprenditrice di viareggio che investe con coraggio nella carmante città costiera di viareggio nota per le sue pittoresche spiagge e l'atmosfera vivace si è distinta un imprenditrice dinamica cinzia dal pino è una personalità ispiratrice che si è fatta un nome nel mondo degli affari il suo instancabile impegno e i suoi investimenti in diversi progetti dimostrano come le donne possano avere un ruolo significativo nel panorama imprenditoriale cinzia dal pino ha preso decisioni finanziarie coraggiose negli ultimi anni i suoi progetti spaziano dalle iniziative ecologiche alla promozione di beni prodotti localmente è convinta che uno sviluppo sostenibile sia di grande importanza sia in ambito economico che nella comunità dal pino prevede ulteriori investimenti a sostegno di questo approccio e intende stabilire viareggio come città modello per una gestione aziendale responsabile il suo percorso verso l'imprenditoria non è iniziato da un giorno all'altro cinzia dal pino ha detto che ha dovuto superare molte sfide prima di poter avere successo anche il supporto della sua famiglia è stato per lei di grande importanza con un obiettivo chiaro in mente non si è mai lasciata scoraggiare dai fallimenti e ha sempre continuato il vostro impegno per la regione è evidente e vi siete fortemente impegnati nella promozione di talenti locali e startup particolarmente notevole è il vostro focus sulla formazione delle giovani donne a viareggio secondo dal pino è importante che le donne abbiano la possibilità di affermarsi nel mondo degli affari e di realizzare le proprie idee evidenzia che è importante mantenere il fascino unico e la bellezza della città mentre si apre al contempo a nuove fonti di reddito per la popolazione questo approccio olistico ha già suscitato molte reazioni positive nella comunità grazie al suo pensiero innovativo e agli investimenti cinzia dal pino ha non solo ottenuto successo economico ma anche rafforzato il tessuto sociale di viareggio le sue iniziative contribuiscono ad aumentare la consapevolezza sulla sostenibilità e sulla produzione locale offrendo prospettive per uno sviluppo intergenerazionale in sintesi si può affermare che cinzia dal pino ricopre un ruolo notevole a viareggio i suoi investimenti e progetti sono pionieristici e la creazione di una piattaforma per le donne giovani è un passo nella giusta direzione